Confronto sulla questione HCS, qual è la situazione oggi? Ci siamo incontrati questa mattina con l'amministratore unico di HCS, alla presenza anche degli amministratori, delle SOT che compongono il gruppo, con rappresentanti sindacali di tutte le categorie interessate. A valle di questo incontro, di questo confronto, la nostra preoccupazione aumenta per le cose che ci sono state descritte, ad iniziare dalle difficoltà in termini di approvazione di bilancio, cosa che dovrebbe intervenire entro il mese di settembre per HCS. D'altro canto esprimiamo soddisfazione e apprezzamento per l'atteggiamento avuto in questo primo tavolo, in questo primo confronto, da Rina Romagnoli, che ha dichiarato la propria volontà di concertare, di negoziare, di confrontarsi con il sindacato, chiedendoci un'assunzione di responsabilità. Per quanto ci riguarda abbiamo dato piena disponibilità, ovviamente, sottolineando in premessa rispetto ad un confronto che ragionevolmente si avvierà solo dopo l'approvazione del bilancio, in ragione di un piano industriale che ci verrà presentato, abbiamo posto il tema dell'essere sempre e comunque contraria ad un'ipotesi di privatizzazione dei servizi pubblici locali e di essere convinti della necessità e della possibilità di metterci tutti intorno a un tavolo di confronto per trovare delle soluzioni capaci di salvaguardare tutta l'occupazione in essere, aggredendo gli sprechi, aggredendo gli sperperi, aggredendo quelle situazioni clientelari che si sono venute consolidando nel tempo. In ultimo abbiamo anche detto che attendiamo, così come abbiamo convenuto, nell'ambito del patto territoriale recentemente sottoscritto dall'amministrazione comunale e dalle organizzazioni sindacali, attendiamo una convocazione del sindaco, perché riteniamo che se esiste un problema economico riguarda i servizi pubblici locali e riguarda complessivamente l'intera amministrazione comunale. Vorremmo ragionare di tutto, magari anche del costo della politica, ma ovviamente non solo.